Sì, per carità usciamo a festa alta e potevamo fare completamente un altro gioco, non è andata, loro hanno dimostrato per l'ennesima volta di meritarcelo. Giusto così, noi ci siamo state, siamo state fino all'ultimo lì in campo e niente, bisogna solo fare i complimenti che ha vinto e basta rimborcarsi le maniche per la prossima stagione. Quanti giocherei che ha la quattro con la nostra in maniera completamente diversa.